Frus! All'arrivat! Sjortimp! E usapuartade un'altre fieste di no dismentea. Eh, sì, sì, egli arrivade la fieste dal pai. C'è il mut cui isali il pai. Il papà vè! Pai, all'era un mut di clamalu che si usave una volta infamè. Lo sapeviso che in Italia ha sondos le fieste di tradizion che si riguardin ai 19 di marzo? Stant che ai 19 di marzo al finis l'inviere, in passato, in questa occasione, avvenivano bruciati ratai della quelte in grandi tassi, in piadis, tagliors, desplacis. Un poco come che si fa per i piñarui. In queste celebrazioni si chiamavano laudis a San Josef, che è il santo che aveva festeggiato in testese di, e si preparavano frittoli tipici. In tais paesi piccoli e in certe città, questi suzancis ha fatto anche ora più allegra la fiesta del pai. Di fatto, è un'occasione, se di più grande che più piccoli, per chiamare il plasè di stare infamè, per festeggiare il papà e per fermarsi un momento e che ha passi una polsa di queste vite svelte, che si fass in di di voi. Buone fieste ad ucch e non dome ai paesi. Mamà!